bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime novità non solo riguardanti il mondo di fortnite vedremo delle immagini che sono uscite ieri pomeriggio e che sono veramente curiose relative alla nuova mappa ma parleremo ovviamente del grandissimo annuncio di sony arrivato intorno alle 23 di ieri e ovvero sia la nuova playstation 5 tante novità tante tanti leaks anche lì tante anteprime non perdete questo video prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali anche al secondo canale e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei video news e allora andiamo direttamente nel primo argomento di oggi che non poteva che essere aperto con questa immagine meravigliosa un'immagine ufficiale appunto che arriva direttamente dalla presentazione di ieri come vi ho anticipato da parte di sony per la playstation 5 sono passati davvero tantissimi anni dall'uscita della ps4 e ci voleva una bella ventata di aria fresca il design è veramente molto accattivante assolutamente futuristico viene abbandonato per la prima volta dopo tanti anni dalla playstation 2 per la precisione il colore nero sulla console per dare spazio a un bianco molto più clean e molto più future a parer mio come vedete c'è già una serie di oggetti classici quindi le cuffie wireless il controller con la docking station e abbiamo anche il telecomando ma quello che ci interessa ovviamente sapere quando cavolo esce questa ps5 beh ovviamente la data ancora non si sa però ci sono delle informazioni molto interessanti che potrebbero portarci a tirare le nostre conclusioni e la prima ragazzi è proprio questa è già l'avete riconosciuto sicuramente il ragno che è un chiaro simbolo di spider man ed è uno dei primi giochi che potrebbe uscire anzi che uscirà nel primo set di release di natale 2020 il gioco si chiama spider man miles morales e ho addirittura anche il trailer lo vediamo insieme senza audio ovviamente ma guardate che roba grazie a tutti beh che dire ragazzi veramente accattivante anche questo trailer e come vi ho anticipato oltre a miles morales arriverà anche il nuovo capitolo di forza horizon quindi già due titoli ufficialmente rilasciati o meglio ufficialmente programmati per natale 2020 data in cui più o meno dovrebbe arrivare appunto la console e ci starebbe tutta come data ovviamente non appena si sarà si saprà qualcosa in più lo saprete anche voi e andiamo avanti a parlare intanto scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate la playstation 5 porca miseria sono curioso di saperlo e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla di squali questa immagine arriva da salva al mondo non c'entra nulla con quello che sto per dirvi ma era per farvi capire perché arriva un tweet molto importante da parte di uno dei leakers più famosi al mondo dove dice nella stagione 3 ve lo faccio vedere già in italiano nella stagione 3 gli squali vagheranno naturalmente in acqua quindi li potremmo trovare in giro puoi agganciarli quindi puoi pescarli con una canna da pesca ed essenzialmente domarli ti porteranno in giro sull'acqua non esattamente come un veicolo ci daranno però lo sci ai piedi dopo averli agganciati ed è veramente una notizia molto interessante e talmente ricca di dettagli e soprattutto detta da una persona molto affermata nel settore che potrebbe essere vero si è parlato tanto vi avevo anche fatto vedere un'immagine dove si intravedeva lo shine shark quindi il progetto parliamo di un mesetto fa di questo nuovo veicolo tra virgolette che il veicolo in realtà non sarà ma una cosa tutta nuova per spostarsi in mappa ovviamente si parla di acqua nella mappa e si parla anche di una novità incredibile o meglio un leaks che arriva direttamente dalla compagnia telefonica telus chi sono quelli di telus è una compagnia telefonica canadese quindi la più importante che twitta promuovendo la loro nuova fibra quindi la nuova velocità di internet la stagione 3 di fortnite will be flawed with the new skins kartrex e loot anche qua si parla di sprofondamento flawed quindi potrebbe essere semplicemente una strategia di marketing letta dal proprietario per attirare i clienti o potrebbero magari sapere qualche cosa che noi non sappiamo quello che appunto ci interessa sapere è che notizie arrivano e continuano a confermare la possibilità di avere tantissima acqua nella mappa arriva anche un'immagine che dovrebbe essere proprio questa ed eccola qua sta girando da qualche ora sui forum dedicati a fortnite la troverete probabilmente anche in qualche video è fake ragazzi ok io oramai ci tengo a farvi vedere delle cose soprattutto quelle fake in modo da farvi capire che le news che trovate in questo canale a volte sono interessanti a volte sono un po più tecniche ma almeno sono sempre vere è un concept come ne abbiamo visti tanti come abbiamo visti quello dell'agenzia di ieri e dell'altro ieri come vedete l'idea che la mappa sia sommersa d'acqua in questo modo sarebbe veramente assurdo perché se consideriamo la prospettiva da cui è presa questa foto e ci immaginiamo quanto è grande la mappa se fosse veramente così diventerebbe un gioco di nuoto più che un gioco survival e battle royale è stata accompagnata da questa immagine quindi è un raffronto tra com'è la mappa adesso e come dovrebbe diventare ma appunto come vi anticipavo non è altro che un fotomontaggio quindi l'immagine totalmente fake non originale e anche qua ragazzi dovremmo stringere i denti ancora qualche giorno oramai ci siamo non perdetevi d'animo perché l'evento è dietro l'angolo la season 3 è dietro l'angolo tra l'altro proprio ieri ho twittato sulla mia pagina ho twittato buonanotte ho pubblicato sulla mia pagina instagram una curiosità rapportata ai 240 giorni dall'inizio di fortnite nei vari capitoli nel capitolo 1 ad oggi avevamo 15 giorni rimanenti nella stagione 4 nel capitolo 2 ne mancano 5 al termine della season 2 questo per farvi capire quanto è lenta il quadro è lento il nuovo capitolo rispetto al precedente io mi auguro che questa sia l'ultima season che abbia questi di lei nel essere rilasciata e che le prossime possono essere molto più sbrigative e ovviamente altrettanto divertenti e chiudiamo con un argomento ancora più interessante quando si parla di roba gratis è sempre interessante arrivano due nuovi videogiochi nello store di epic games che è possibile scaricare in maniera totalmente gratuita fino al 18 giugno il primo ragazzi è arc dovrebbe essere un survival game anche quello ambientato in una zona dove ci sono i dinosauri e il secondo invece è samurai showdown della neo geo collection vi consiglio il secondo perché qualcosa mi ricordo dei vecchi videogiochi dovrebbe essere molto divertente un hack and slash chiamiamolo un pochettino così insomma ragazzi anche per oggi le news di fortnite io ve le ho dette vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao